ciao benvenuta benvenuta a questo video un video tranquillo un video fatto di silenzio torno al silenzio in questa giornata dopo questa giornata di grande centratura una centratura in ogni gesto o quasi chi è centrato in ogni gesto è un mago della vita io sono stato centrato in molti momenti di questa giornata e questa centratura ha portato a una grande serenità una grande tranquillità una tranquillità che poi spesso viene sorpresa ti sorprendi manchi la centratura ogni istante e spesso ti ritrovi in uno stato opposto di grande agitazione perché quella centratura non era centratura era farsa centratura con il tempo con l'allenamento la centratura diventa vera centratura in quella centratura c'è la vita che si manifesta tramite di te tu sei vita allo stesso tempo ma tramite di te si manifesta questa vita e allora non sei più tu che agisce ma la vita agisce tramite di te e questi sono momenti da ricordare da portare dentro di te per ritrovarli quando lo desideri non quando ne hai bisogno ma quando li richiami a te li hai vissuti sono con te allora li puoi richiamare è bello dunque immaginare di poter richiamare un'esperienza positiva quando lo desideri sapendo che è registrata dentro di te ecco questo è quanto sentivo di dirti questa sera allora buona centratura buona domenica una domenica meravigliosa per te per me e per tutti coloro che ne avranno la possibilità che sia per loro una domenica centrata perché centrata significa serenità tranquillità e poter riprodurre in futuro questo stesso stato che è stato registrato nelle tue cellule aug se ti è piaciuto il video metti il mi piace e se vuoi iscriviti al canale un abbraccio e a domani per per una nuova manifestazione di vita aug a domani per la meravigliosa con chi nova